la roma si e il bayerno la roma si e il bayerno a parte gli scherzi mamma mia mamma mia c'è una partita di 90 minuti sembravano tipo due giorni sono morto sono morto e davvero la partita forse una delle più lunghe che ho vissuto che sembrava davvero non finisse mai ma tant'è siamo in finale siamo in finale siamo in finale seconda finale consecutiva allora due cose al volo credo che questa semifinale sia stata la dimostrazione di quanto a dispetto di tutte le voci che ci sono state che si sono dette su giocatori su murigno su quello che va via quello rimane murigno dove va andar via questa è la partita ok all'interno dei 180 minuti la dimostrazione di quanto questo gruppo sia unito e unito forte cioè ogni giocatore per l'altro si butterebbe nel fuoco e tutti i giocatori per murigno per lo staff si butterebbero nel fuoco e credo che una partita così cioè contro una squadra così come il bayern leverkusen visto in questi due scontri poi io la bundesliga non la seguo penso che era l'unica cioè l'unico tipo di squadra che poteva limitare leverkusen comunque buttarlo fuori dagli problemi eravamo noi per come in queste partite giochiamo cioè giochiamo ci mettiamo in campo ok allora prima di dire tante cose la roma tecnicamente diciamo così brutta cioè non è stata che so tipo il manchester city ieri ok ecco per farvi capire ma non pur avendo i giocatori anche se non ce l'abbiamo tutti tutti al completo e tutti al 100% credo che vedendo questo bayern leverkusen questo era l'unico modo per portarsela a casa sia all'andata che questa sera poi in in trasferta era l'unico sistema se avessi giocato in un altro sistema con in un altro un altro modo in qualsiasi altro modo ne avresti presi quattro tre quattro e sarebbe stata una disfatta pesante invece questo era l'unico modo per per portarla a casa per sfangarla anche perché noi non davamo dimostrare niente non toccava di non toccava dimostrare di essere una delle migliori d'europa non toccava dimostrare di poter fare due tre gol dovevamo arrivare in finale toccava arrivare in finale quello era l'unico obiettivo dopo questi 90 minuti obiettivo preso e portato a casa basta basta questo questo toccava fa stasera non non dovevamo fa nei giocoglieri non dovevamo fa cinque gol toccava fa niente toccava pialli questi 90 minuti portarli a casa 0 a 0 magari l'uno a 0 zozzo ci sarebbe potuto magari stare perché lì sul calcio d'angolo dove il difensore che non mi ricordo chi cacchi era che anticipato mancini però questo toccava fa l'hanno fatto e io sono sono impressionato ogni volta rimango impressionato di questa squadra perché davvero in questi 180 minuti non ho trovato un errore di un singolo cioè nessuno ha commesso errori allora stasera matic monumentale ma matic sta facendo una stagione che non ha che non ha senso e penso che si sia capito perché murigno st'estate lo abbia fortemente voluto abbia chiesto proprio lui espressamente di come come centrocampista e penso che ormai lo stiamo vedendo ogni partita bove bove ragazzi monumentale centrocampo poi sull'esterno per necessità non ha sbagliato nulla questa è la semifinale di bove non ha sbagliato nulla in questa partita nella partita di andata e ha fatto anche il gol qualificazione cioè ragazzi pazzesco e zeleschi sono contentissimo per come è entrato e per quello che ha fatto poi perché è stato davvero avevo magari paura perché spinazzola riusciva a stare dietro a diabi o frimpong e ero un po' timoroso però nico ha fatto fatto una partita pure lui ragazzi quanto è forte quanto è forte cioè partiva in contropiede piava ai falli difendeva da veterano e ragazzi ha 21 anni 22 anni quanto cazzo sei forte nico porca miseria e poi per il resto ragazzi tutti 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 dal primo all'ultimo tutti perfetti tutti bravissimi adesso 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 finale il 31 contro il siviglia fatto questo video un po più tardi perché dovevo un attimo sbollì questo questa questa qualificazione ci ho messo un'oretta per fare al video e contro il siviglia perché poi mi sono visto gli ultimi 20 minuti contro di siviglia juventus e finale contro il siviglia altra squadra rognosa tanto quanto noi che noi comunque abbiamo dimostrato di essere una squadra rognosa cioè una squadra che davvero ti rompe le palle e ti spezza un po' il sistema di gioco tu no però ovviamente finale ce la ce la ce la giochiamo saltano tra virgoletti tutti i vari schemi del caso e sinceramente da un punto di vista dispiace per la juventus perché comunque per il calcio italiano sarebbe stato bellissimo avere tre italiane in finale perché poi la fiorentina è in finale perché ha vinto contro il basilea per quanto riguarda poi la conferenza da questo punto di vista dispiace però però c'era il problema che parte era una finale secca e quindi il fatto anche di giocare un derby in finale poi a livello di sfottò futuri sarebbe stato un macello c'era il problema che la juventus comunque ti conosce e quindi c'era anche questo discorso qua più la cosa di essere un derby quindi non sarebbe stata una finale normale tra virgolette ma tipo tre finali tutte insieme ok potrebbe essere un po' un problemino molto un problema col siviglia sarà una finale sicuramente diversa una finale dove però te la giochi e abbiamo questi 12 13 giorni prima della finale per recuperare tutti al 100 per cento che questa è una cosa io sinceramente mi auguro cioè di bala 100 per cento smalling 100 per cento e elsha 100 per cento toccherà a vedere celic e spinazzola che cacchio si sono fatti e niente ragazzi e penso che chiunque avesse dei dubbi sul fatto che murigno potesse andar via penso che l'esultanza finale sotto la curva ospite quasi con le lacrime per un'altra finale l'ennesima della sua carriera penso che la dica lunga e risponda a tutte le varie domande tutti quei siti su pari san germain e robe varie e niente detto ciò ragazzi buonanotte e sempre sempre forza roma ciao